Luca Zingaretti compie 56 anni, le festa con moglie e figli Luca Zingaretti ed il suo alter ego, per entrambi un anno in più. Duplice festeggiamento per due dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Spegne 49 candeline il commissario Salvo Montalbano, personaggio nato dalla brillante mente di Andrea Camilleri, protagonista dell'omonima serie ed interpretato magistralmente da Luca Zingaretti. Come riporta il settimanale Chi, il più famoso personaggio del poliziesco italiano ed il suo interprete hanno festeggiato i loro rispettivi compleanni. Come? Salvo, a suo modo, ovvero riuscendo ad arrestare un malvivente coinvolto nell'omicidio dell'amata fidanzata, Livia. Il set e la vita reali, fortunatamente, sono però due realtà differenti e Zingaretti, che è più grande del suo personaggio, ha compiuto 56 anni ed ha potuto festeggiare il compleanno in maniera ben diverso. In compagnia della produzione, di amici e della famiglia, con le due figlie Emma e Bianca e la bellissima moglie Luisa Ranieri, ha trascorso il giorno di feste in un agriturismo, chiamato i Casali del Pino, situato alle porte di Roma. Luca Zingaretti e Salvo Montalbano, da 18 anni insieme. Il commissario Montalbano è un progetto che ormai va avanti da ben 18 anni, dato significativo che mostra di quanto la storia e il vissuto del personaggio del mondo ideato da Camilleri abbia colpito il cuore di tutti noi. Gran parte del merito va ovviamente al suo interprete, Luca Zingaretti, che si è immedesimato alla perfezione in queste vesti. Lattore romano, assieme alla produzione della serie e al restante cast, sono stati omaggiati dalla critica televisiva Il Nonno. Anche noti quotidiani, quali Il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano, hanno lodato il lavoro eccezionale per la realizzazione della serie. Salvo Montalbano, un amore incondizionato da parte del popolo italiano. Dati alla mano, questa serie tv risulta essere una delle costanze della televisione italiana, una garanzia in termini di ascolti e visioni per la RAI, rete che la trasmette sin dal 1998. Difatti, è attualmente la serie più vista nel panorama italiano ed una delle più seguite nel Regno Unito. Inoltre ottiene sempre la vittoria quando è in prima serata. Luca è salvo, vi meritate davvero un gran bel regalo.